Hey, nothing you can say, nothing's gonna train what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take what's mine E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati su Overwatch, oggi finalmente vi porto l'Overwatch La Rivolta, la rivoluzione, yeah Un evento nuovo, PVE diciamo, perché sarà in co-op come quella di Junkerstein Finalmente una cosa così la volevo di nuovo e ovviamente ci saranno i nuovi forzeri, addirittura 5 no No, perché in realtà ne avevo presi altri 4 nonostante avessi fatto il box opening due giorni fa Ma va bene lo stesso, guarda Mersi con i capelli slegati Abbiamo vinto la guerra con gli Omnic, ma la convivenza fra noi continua a essere difficile Le facciamo vedere perché siamo bravi ragazzi La costruzione di una nuova casa per gli Omnic a Londra doveva essere il primo passo verso il miglioramento delle relazioni tra umani e ruote C'ha ragione poi, ma non è andata così Poi c'ha senso perché è una mondina no, quindi mondata Mi ha togli avviso Anche poi ho visto già il video in realtà su Overwatch Italia, è lo stesso Poi c'ha fatto male di un'altra squadra Oh, non l'ho fatto male di un po' È la mia prima missione e un'occasione che si riuscita Ho proprio messo a fumetto così Spero che non sia troppo tardi Mi piace sta cattiveria Rega io mi metto Farah, facciamo Farah Mersi Farah Mersi Va bene Ma stai ziii Mmm, che porco io? Sì sì, lì lì L'armatura, orco Dio Ma ogni quanti nemici uccisi troppo L'armatura non ho capito Eh, vieni colgire tu Mi sa quando è uccidito Oh Oh L'armatura, orco Dio Che cosa sono? Mi sa quando è uccidito Ma non ho capito Mi sa quando è uccidito Mica però non ti si carica un cazzo la ulti con l'ana? No, ma perché non fa davvero i tuoi danni Oh aspetta qua Adesso qui dovrebbe essere buono Anche qua al centro va bene Non vengono da dietro qua? Adesso quando lo dici Non vengono da destra Barriera è finita qua Io posso zittare il basso? Mi ribuotate? Non posso C'è ragione la produzione del cazzo della perla torretto Devo cambiarlo assolutamente Vabbè abbiamo finito Non vengono da dire che possiamo andare Ma forse C'è ragione la produzione del cazzo della perla torretto? C'è ragione la produzione del cazzo della perla torretto? C'è ragione la produzione del cazzo della perla torretto? C'è ragione la produzione del cazzo della perla torretto? C'è ragione la produzione del cazzo della perla torretto? C'è ragione la produzione del cazzo della perla torretto? C'è ragione la produzione del cazzo della perla torretto? Sì sì, puoi metterelo Puoi metterlo 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 ah ora posso Si sì,we меся Mi tolgo? Vai vai, Paul No, no ci vuoi, no ci vuoi chiamatemeli ah qui ci dobbiamo lasciare mai perché il bacio è meglio fare un cazzo a voi che ti fa ieri carico sarà tutto in un attimo non manca molto salve guarda non arriva qualcuno a sinistra puoi addormentare quel gigante lì per caso oh il gigante non va giù e ora arrivano i basti o c'è un'altra cosa se si mettono dietro i cazzo di sicuro destra eccolo adesso è ancora arriva qualcuno adesso metà vita guarda il bacio mio son morto porta puttana resta restatelo porca puttana ma tiara no niente non si può fare com'è cazzo si fa proviamo un cazzo di soldato normale sicura eh cura anche con questo lato spamma ulti tantissimo chi spamma ulti ogni c'è niente sposa oh che cazzo 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 destra oh che cazzo oh che cazzo oh che cazzo ma no no a il nano gli fanno un botto di danno come stiamo cercando proprio con lui poverino adesso se non mi sbaglio la prima bomba arriva da sinistra so se sono fissi si può raffinarla adesso vedremo che succede eccolo la eh però devi tenere adesso adesso spostare l'ho spostato però ancora un po' di vita eh one shot tira di una maternola da destra a destra a seconda e spavere un po' che lo propino ecco se ti potenzio magari fai più danno no mamma mia adesso dovrà comparire il bastion a destra mi sa si pax c'è l'armatura lì a sinistra i bastion a destra bastion 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 a sinistra quanta vita tantissima non pensare sinistra la torretta è andata oh cazzo arriverà un altro bastion a destra mi sa i pax ti conviene ultare appena lo vedi i 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 da sinistra dal tema della bomba ok in alla fine alla fine adesso la bomba la bomba stai arrivando provate a risuscitarla voi non voglio consumarla se non da fare e ma che cazzo mi sei morto un'altra volta adesso adesso perchè mi è tutto legato il conto sul carico abbiamo fatto l'abbiamo fatto qualcuno resta a lui io intanto vi curo mi rifaccio la mia era andata meglio con la diva la 2003 boh ma non era questo si che restiamo no difficile vabbè qua a parte i bassi e nei molti non c'è tanta roba che può fare eccolo la sinistra scusate ero a destra ma ero girato al contrario ci sono un paio dietro guarda che ha già metà vita non so come cazzo facciamo tenerla su devi tenere lo scudo attivo punto e basta dietro dietro raga la bomba dietro bomba dietro bomba dietro bomba dietro però qualcuno mi serve davanti non posso ucciderli io è la torretta eh ma non stava mirando quello lì allora la torretta è handicappata a destra ma se in ultima ma stiamo da davanti ma che vi toccato cazzo siete messi troppo male non lo posso rianimare io devo tenere in vita gli altri non abbiamo più ulti cazzo cazzo guarda questi cassetti piccoli porca puttana con un colpo di poppa non vanno giù tu metti quella cazzo di torretta giusta eh ma non riesco a piazzarla basta una sinistra parca no prima che riesca a potenziarla metti lo scudo non va giù oh anche il cosolo raga c'è uno scudo a sinistra ora qui con calma andiamo raga costruisci subito la torretta dietro dietro c'è qualcuno che mi rompe il culo eeeh tu tieni lo scudo alzato andiamo con calma dentro aspettate che raccogli un po' di merda qua dietro a cazzo c'è uno luso dagli mazzate dagli mazzate dagli mazzate dagli mazzate oh ora andiamo verso il bastione a destra ora verso il bastione ora verso il bastione vai sparate lì lo scudo e poi andiamo sullo risale c'è un altro bastione perfetto due bastione uno in torretta no no la torretta lì di fianco ne ha torretta togliti c'è il bastione avanti il bastione avanti pensate l'orisa da qui venite qui a destra venite qui a destra uccidiamo l'orisa da qua e così il bastione non ci può mirare oh 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 dai tranquillo dai tranquillo boh ora il bastione ora il bastione è un bastione è un ultimo oh cazzo lo ho preso no Ancora c'è quello davanti Fallo fuori Fallo fuori Ah ma perché si cura Si cura lo stronzo Si Non è morto Non lasciatemi Lassatelo normale Andiamo da sinistra Andiamo da sinistra Raga non passiamo dal centro Ci sono due cazzo di Orisa e un Bastion in fondo Andiamo a fare il Bastion subito Passiamo al Bastion qui in fondo da qua Metti la torretta se riesci un po' avanti No no Mi ha spinto sotto Ragazzi a un basso in ulti dietro Arrivo dietro di noi Nici continuate dentro e dentro e dentro Vado in Bastion Continua spinto mi sottolinea Ok 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 E dai dai andiamo da lì Eh Reiner riesce a fare... Eh no un... Un... Non lo so... Un cala martello esatto Sì Sì Cosa c'è a destra Questa c'è a destra Questa cuglione Non si era tolava ultima Un'andata 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 quando non c'è un bastio, non c'è un martello grazie per aver seguito il video se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao